Ecco il Binion's Horseshoe dove sono nate le World Series of Poker ma dove sono nato anch'io perché quando sono venuto qua a Las Vegas nel 1994 questo è uno dei primi casino dove ho giocato a poker Le emozioni a partire da Amarillo Slim all'inizio ma poi alla fine Moneymaker perché Moneymaker è stato poi quello che ha lanciato le World Series Prima di Moneymaker c'erano dei film normali poi è successo che ESPN la famosissima televisione sportiva che poi è arrivata ovviamente anche in Italia ha portato il poker a un altro livello filmando addirittura dall'inizio del torneo Let's Up con Semi Farha meno male che ha vinto lui perché Semi Farha seppure un pazzo scatenato non è neanche quello che avrebbe portato forse il poker ai livelli che ci sono ora Io sono diventato professionista nel 1999 però i tornei li ho iniziati a giocare nel 2002 Il 2004 è stato invece l'anno in cui ho voluto giocare per la prima volta le World Series Sederò qua al Binion quindi le mie prime World Series proprio al Binion sono fatto tre tornei In uno di questi sono riuscito ad uscire in bolla e mi ricordo benissimo anche che appena sono uscito nel turn Io ero Drawing Dead in Limitoma Una cosa che non esiste neanche più da tanti tanti anni E un giocatore mi fa basta basta non mettiamo neanche il river sei uscito E io felicissimo sono uscito dalla sala e dall'Ors E un'annual Îterrottore Grazie... Grazie ki... Weissi...